Sabato apportiamo la seconda di campionato, la prima per noi in casa, per noi tra l'altro la prima in assoluto a Bussago perché abbiamo sempre giocato in una palestra diversa, pertanto l'ambiente qui si era particolare per noi la prima volta, siamo molto curiosi di capire come sappiamo comportarci in questa nuova struttura è rientrata Salvetti, quindi abbiamo tutto il nostro completo la seconda partita sarà sicuramente una continuità di lavoro che già abbiamo visto nella prima spero semplicemente che magari la prendiamo con più serenità visto che nella prima partita eravamo un po' troppo agitate, troppo insicure che tra l'altro ci sta perché dopo un anno che non si gioca era del tutto comprensibile presumo e spero che man mano che andiamo avanti questa cosa poi si supera e vorrei vedere la reazione della squadra già a partire da questa partita la squadra avversaria sembra una bella squadra esperta con due attaccanti di riferimento in modo particolare l'S1 e l'opposto non sarà facile giocare contro loro perché comunque hanno dei bei colpi però presumo che siamo entrambe, penso un po' tutte le squadre in difficoltà in questo periodo pertanto sarà comunque bello giocare innanzitutto e poi chiaramente cercheremo di mettere in difficoltà la squadra è necessaria e si giocare sempre per vincere